Preparatevi a un viaggio di trasformazione, in cui imparerete a incanalare la vostra fede in Dio per raggiungere la vera ricchezza. Scoprite i segreti per sbloccare i sentieri, rimuovere gli ostacoli e aprire le porte a una vita piena di successo. In questo meraviglioso contenuto vedrete la perfetta combinazione di saggezza spirituale, strategie pratiche e tanta motivazione ispiratrice, che rivoluzionerà il vostro modo di pensare al denaro e all'abbondanza. Unitevi a una comunità di persone determinate a prosperare in tutti gli ambiti della vita. Iscrivetevi subito a questo fantastico canale e condividete questo messaggio con i vostri amici e familiari. State per svelare i segreti per manifestare una vita di ricchezza, felicità e generosità. Quindi non perdete altro tempo. Siate aperti al cambiamento e sappiate che il vostro futuro è a portata di mano, dipende solo da voi, quindi venite a far parte di questo movimento di trasformazione e trovate il vero percorso verso la vostra realizzazione finanziaria, e preparatevi a vivere una vita di scopo, di impatto e con molti soldi. Il futuro è nelle vostre mani. Vi meritate una vita di ricchezza e felicità. Iniziamo insieme questo fantastico viaggio. Oggi sto per condividere con tutti voi qualcosa di veramente straordinario, la versione originale di una preghiera così incredibilmente potente che, quando ne ripetete le parole, vedrete arrivare una valanga di denaro. Sì, avete sentito bene! Il modo più semplice e impressionante per ottenere ricchezza è semplicemente leggere o ascoltare questo testo. Ecco perché oggi vi invito ad abbandonarvi a questa potente preghiera di fede e di lode, consentendo la manifestazione di ricchezze limitate nella vostra vita. Tutto ciò che dovete fare è ascoltare con attenzione, nutrire una fede profonda e provare gratitudine. Aprite il vostro cuore e ricevete tutto ciò che Dio, nella sua infinita misericordia e bontà, ha riservato appositamente per voi. Se credete fermamente in Dio e possedete una fede incrollabile, posso assicurarvi con certezza che non vi pentirete mai di aver recitato questa potente preghiera una sola volta al giorno. Ha l'incredibile potere di fare miracoli finanziari immediati nella vostra vita. La cosa migliore è che non dovete fare alcuno sforzo straordinario per attirare il denaro, tranne ovviamente ascoltare questa preghiera una volta al giorno. Concentratevi profondamente, abbiate piena fiducia e ripetete queste parole sante con devozione. Presto sarete testimoni della meraviglia di una vera trasformazione finanziaria. Accogliete quindi questa opportunità unica, permettendo a questa preghiera illuminante di guidare i vostri passi verso una vita piena di abbondanza e soddisfazione. Ricordate che la chiave sta nella vostra fede incrollabile e nella fiducia assoluta che l'universo stia cospirando a vostro favore. Preparatevi quindi a godere di una straordinaria realtà finanziaria in cui i vostri sogni diventeranno realtà. Per ricevere la benedizione di questa potente preghiera scrivete nei commenti. Sono pronto per un viaggio di trasformazione nella mia vita. Ora fate un respiro profondo, chiudete gli occhi e lasciate che questa preghiera avvolga tutto il vostro essere mentre vi preparate a ricevere i doni divini. Il miracolo sta arrivando e tutto ciò che dovete fare è crederci e riceverlo con gratitudine. La ricchezza sta arrivando a voi. Credete nei magnifici piani che Dio ha in serbo per la vostra vita. Adottando questa postura, vedrete tutte le cose andare perfettamente al loro posto e una nuova storia di ricchezza, protezione, abbondanza e abbondanza verrà scritta nella vostra vita. Quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, cercando umilmente la ricchezza, diventiamo sinceri ed eleviamo veramente la nostra fede. Ci rendiamo conto che ogni ricchezza viene da Dio e che senza di Lui nulla è possibile. Riconoscendo questa profonda verità, apriamo la porta a una connessione divina che trascende tutti i confini. E in questa connessione non troviamo solo ricchezze materiali, ma anche la vera realizzazione spirituale ed emotiva. Quindi, riponete la vostra fiducia nelle mani di Dio, sapendo che è Lui il fornitore finale. Grazie a questo sincero abbandono, aprirete la strada alla manifestazione di benedizioni illimitate. Permettete all'umiltà di soddisfare il vostro cuore e di rafforzare sempre più la vostra fede. Ricordate, quando comprendiamo che tutta la ricchezza viene da Dio, siamo guidati a perseguire una vita di scopo e di significato, condividendo le nostre benedizioni con gratitudine e amore. Quindi, apritevi alla magnanimità divine e preparatevi ad assistere a una trasformazione in tutti gli ambiti della vostra vita. Siate pronti a ricevere la ricchezza divina, guidati dalla certezza che Dio è il vero fornitore di ogni bene. Abbiate fiducia nel piano divino, siate grati per tutte le benedizioni che vi verranno elargite e intraprendete questo viaggio di crescita spirituale e di abbondanza. Questo è l'inizio di una nuova storia di benedizioni per voi. Preparatevi a vivere un'esperienza trascendentale e potente ascoltando queste parole ogni giorno. La manifestazione delle ricchezze che tanto desiderate avverrà in modo naturale e sorprendentemente rapido. Tutto ciò che dovete fare è connettervi con il potere divino, nutrire una fede incrollabile e ringraziare. Perché questo è esattamente ciò che Dio desidera. Questi sono i piani divini per la vostra vita e tutto ciò che dovete fare è comprendere e ricevere tutto ciò che vi spetta di diritto. La chiave è allinearsi e connettersi con Lui, e questa preghiera sarà il vostro strumento sacro per raggiungere questo obiettivo. Ora dovete rilassarvi, respirare profondamente e calmare il vostro cuore. Sollevate il pensiero alla figura di Gesù Cristo e lasciate che un profondo senso di gratitudine si manifesti nel vostro essere, irradiandosi verso il cielo. In questo momento sacro vi connettete con il divino e vi aprite a ricevere le benedizioni e le manifestazioni che stanno per arrivare. Confidate nella presenza di Dio al vostro fianco e lasciate che il suo amore e il suo potere fluiscano attraverso di voi. Questo è un momento speciale in cui vi arrendete alla grandezza del piano divino. Siate grati per tutto ciò che avete ricevuto e per tutto ciò che sta per arrivare. Questa gratitudine aprirà le porte a un flusso abbondante di benedizioni nella vostra vita. Ora fate un altro respiro profondo, assorbite l'energia divina che vi circonda e siate pronti a ricevere le meraviglie che Dio ha in serbo per voi. Abbiate fiducia, credete e sappiate che siete guidati dall'amore e dalla provvidenza divina. Lasciate che questa connessione sacra con il potere divino trasformi la vostra vita in modi che vanno oltre la vostra immaginazione. Questo è l'inizio di un viaggio di abbondanza, transizione e realizzazione dei vostri sogni più profondi. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e il vostro sostegno. Che la grazia di Dio sia con voi durante questo viaggio. Ora chiudete gli occhi e lasciate che la preghiera riempia il vostro essere, aprendo la strada a una vita piena di benedizioni divine. Quando vi sentite pronti, potete iniziare questa preghiera. Caro Dio, Padre creatore dell'universo e di tutte le cose, nel nome di tuo figlio Gesù Cristo, vengo davanti a te in questo momento. Riconosco la sua maestà e onnipotenza, esprimendo la mia umiltà, rassegnazione, sincerità, fede e riconoscimento del suo potere sulla mia vita. Amato Padre Celeste, sappi che è la mia fede in te che mi sostiene ogni giorno, anche quando i momenti difficili sembrano infiniti. So che non sarò mai abbandonato da te e confido che tu mi fornerai sempre tutto ciò di cui ho bisogno per trovare la vera felicità. In questa umile preghiera, ti lodo e riconosco tutta la tua grandezza. Mi rendo conto che senza la sua mano e la sua protezione nella mia vita, non sono nulla. Permettimi di trovare rifugio in te, mio Dio, perché sei il mio porto sicuro. Nei momenti di dubbio e di angoscia, rafforza la mia fede affinché io possa perseverare e trovare pace alla tua presenza. Permettimi di confidare nei tuoi piani, sapendo che hai sempre in serbo il meglio per me. Padre amorevole, ti chiedo di riversare su di me la tua saggezza e di guidare i miei passi sul sentiero della luce, illuminando la mia mente e il mio cuore affinché possa comprendere la tua volontà e seguire i tuoi comandamenti. Permettimi di essere un canale di amore e felicità per gli altri, riflettendo la tua luce in questo mondo. In questo momento di preghiera, ti consegno i miei sogni, i miei desideri e le mie preoccupazioni. Confido che tu mi ascolti e sia attento alle mie necessità. Che io possa avere l'umiltà di accettare il tuo piano per la mia vita, anche se è diverso da quello che mi aspettavo. Aiutami a fidarmi completamente di te, sapendo che la tua saggezza è perfetta e che tutto ciò che mi accade è secondo il tuo disegno. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua costante fedeltà nella mia vita. So che posso contare su di te in ogni momento, sia nei giorni di gioia che nelle ore di dolore. Ti ringrazio per la pace e l'amore che trovo alla tua presenza. Concedimi la grazia di vivere in armonia con la tua volontà e di sperimentare l'amore incondizionato che viene da te. Rafforza la mia fede, affinché io possa essere testimone delle tue benedizioni e condividere la tua bontà con il mondo che mi circonda. Riaffermo la mia devozione e la mia gratitudine a te, caro Padre Celeste. Che questa preghiera sia un'espressione sincera del mio amore per te e della mia fiducia nel tuo piano per la mia vita. Nel nome di Gesù Cristo, mio Signore e Salvatore, prego. O Signore, nel tuo nome esprimo la mia più profonda gratitudine. Tu solo conosci i bisogni del mio cuore e le difficoltà che affronto nel mio cammino. Riconosco le lotte che ho affrontato e tutto ciò che ho passato. In questo momento, apro il mio cuore e dichiaro tutto il mio amore per te. Invoco il tuo nome e ti chiedo, in questo istante, di aprire tutte le porte della ricchezza divina nella mia vita. Ho una fede incrollabile in tutti i miracoli finanziari che tu sei in grado di operare nella mia esistenza. Ti chiedo, oh Dio, di entrare nella mia vita con tutta la tua potenza e forza, aprendo tutte le strade. Dissipa tutta la miseria, la scarsità e la povertà che hanno isolato la mia vita. Ti imploro di aprire le porte della protezione divina e di permettermi di prosperare abbondantemente da oggi in poi. Che la ricchezza fluisca nella mia vita come una fontana inesauribile. Confidando nella sua bontà e misericordia, ripongo le mie speranze in lei, oh Signore. Credo che tu sia in grado di trasformare la mia situazione finanziaria, portandomi sicurezza e abbondanza al di là di ogni mia immaginazione. Che la tua grazia si manifesti in ogni aspetto della mia vita e che io possa essere un testimone vivente delle tue opere potenti. Che le opportunità si presentino davanti a me e che io abbia la saggezza di riconoscerle e sfruttarle al meglio. Oh Dio, mio fornitore e sostenitore, ti chiedo di benedire il mio lavoro, i miei sforzi e tutte le fonti di reddito della mia vita. Permettimi di essere un amministratore saggio e generoso delle risorse che mi sono state affidate, affinché io possa onorarti con il mio successo e condividere le tue benedizioni con gli altri. Rinnovo la mia fede in te, oh Signore, e ripongo la mia fiducia nel tuo potere di trasformazione. Credo di essere destinato a vivere una vita di realizzazione finanziaria e di appagamento. Nel tuo nome, rivendico le promesse di svista e abbondanza che sono in serbo per me. Vi ringrazio in anticipo per tutte le benedizioni che mi arriveranno. Con la gratitudine nel cuore, attendo con ansia i miracoli finanziari che lei sta preparando per me. possa la mia vita essere una testimonianza vivente del tuo amore e del tuo potere. Nel nome di Gesù, mio Salvatore e Redentore, prego e ringrazio. Amen. Ora mi rendo conto che la vera ricchezza consiste nel glorificare te con tutto il mio cuore. Se mi concederai l'abbondanza, prometto di benedire non solo la mia famiglia, ma anche la vita di coloro che ne hanno più bisogno. Ti chiedo di mettere gli angeli protettori sul mio cammino, affinché la mia vita possa traboccare di abbondanza e di ricchezza. Che la ricchezza che mi viene donata dal tuo amore si trasformi in altro amore. riconosco che tutti sono tuoi figli e che dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, come tu hai insegnato. Che io possa essere uno strumento del tuo amore, condividendo generosamente le benedizioni che mi sono state affidate. Che il mio cuore sia pieno di compassione ed empatia, cercando sempre di aiutare chi ha bisogno. Che io possa essere una fonte di amore, speranza e aiuto per tutti coloro che mi circondano. O Dio, concedimi la saggezza di riconoscere le opportunità di fare del bene e di raggiungere chi è nel bisogno. Permettimi di essere un canale di benedizioni e di investire la mia ricchezza, materiale o spirituale, in progetti e cause che promuovono il benessere di tutti. Aiutami a superare il mio egoismo e ad abbracciare uno spirito altruistico, dove l'amore per gli altri è importante quanto l'amore per me stesso. Possa io essere in grado di mettere il benessere degli altri al pari del mio. Nel suo amore e nella sua grazia, prego che la mia vita sia un esempio vivente di generosità e compassione. Che ogni benedizione che ricevo possa essere moltiplicata e condivisa a beneficio di tutti. Concedimi oggi pace e sicurezza, o Signore. Trasforma la mia vita attuale in un'esistenza benedetta, di successo, prospera e felice. Purifica il mio cuore e rimuovi tutte le difficoltà e le energie negative che ostacolano la mia crescita. Allontana da me l'invidia, l'avidità e la cupidicia, affinché io possa vivere in pace e felicità. In questo momento, credo che la protezione divina stia entrando nella mia casa e nella mia vita. Mentre prego e lodo il suo nome, profetizzo che da questo momento in poi la ricchezza arriverà a me da tutte le direzioni e rimarrà nella mia vita per sempre. Affinché questo diventi realtà già oggi, ti chiedo, Signore, di rimuovere dal mio cuore tutto ciò che blocca l'arrivo della ricchezza e della protezione. Liberami da ogni scarsità, da ogni senso di povertà e di frustrazione. Toglimi lo scoraggiamento e la mancanza di fede, e dotami di una mente finanziariamente saggia, perseverante e determinata. Che io sappia sempre come moltiplicare e far fluire la mia ricchezza. Che io abbia la saggezza di gestire le mie risorse con prudenza, investendo con saggezza e generosità. Dammi il discernimento per riconoscere le opportunità che si presentano davanti a me e il coraggio di coglierle con spiritualità. Permettimi di prendere decisioni sagge e di agire con saggezza in tutti gli ambiti della mia vita finanziaria. Ti chiedo anche, oh Signore, di mettere sul mio cammino persone sagge e mentori finanziari che possano guidarmi e assistermi nel mio viaggio verso l'istruzione. Che io sia circondato da una rete di sostegno di persone che credono in me e nelle mie capacità. Che la protezione divina non sia solo una benedizione materiale, ma anche spirituale. Che io possa essere uno strumento d'amore, generoso e compassionevole, condividendo le mie ricchezze con chi ne ha bisogno. Vi ringrazio in anticipo per tutte le benedizioni che verranno. Credo che la mia vita si stia trasformando e che vivrò una vita di abbondanza e di successo, sotto ogni aspetto. Che tutto questo sia a gloria del tuo nome. Nel nome di Gesù, mio Signore e Salvatore, ti prego. Padre, credi fedelmente che mi concederai le risorse necessarie per ottenere ciò che ti chiedo, la mia ricchezza e la mia felicità. Desidero essere sempre una persona dal cuore giusto, nobile e gradita ai tuoi occhi, onorandoti e glorificandoti ogni giorno. In questo momento, dichiara che avrò abbastanza ricchezza per godere di una vita felice e confortevole, e per aiutare ancora molte persone. Ti prometto che tutta la ricchezza che mi arriverà non mi trasformerà in una persona egoista e avida. Manterrò il mio cuore puro e aiuterò tutti coloro che ne hanno bisogno, perché in questo modo ti onorerò, o Dio, e la mia fortuna si moltiplicherà ancora di più. Perciò, Padre mio, ti chiedo che, anche se diventassi una persona ricca e di successo, mi permetta di mantenere il mio cuore umile e pieno di bontà. Che non perda mai la volontà di aiutare il mio prossimo e i bisognosi. Permettimi di essere un canale di benedizioni, distribuendo generosità, amore e compassione a tutti coloro che mi circondano. Che la mia ricchezza non sia solo una ricerca egoistica di comodità personale, ma un'opportunità per fare la differenza nella vita di coloro che amo. Dammi la saggezza di usare le mie risorse in modo responsabile e con discernimento, al fine di beneficiare il maggior numero possibile di persone. Ti ringrazio in anticipo per tutte le benedizioni che mi elargisci, perché confido che soddisferai abbondantemente i miei bisogni. Aiutami a mantenere la mia visione focalizzata sui tuoi scopi, affinché io possa usare la mia ricchezza per promuovere il bene e la giustizia in questo mondo. Che io possa essere uno strumento di trasformazione, un agente di cambiamento positivo ovunque io sia. Permettimi di condividere l'amore e la generosità che ricevo da te, affinché tutti intorno a me siano benedetti. Nel nome di Gesù, mio Signore e Salvatore, ti prego. Amen. E che, a prescindere dalla mia ricchezza, io non dimentichi mai che tu ne sei il responsabile. Riconosco che la mia fede nel tuo nome mi ha portato a tutta questa ricchezza e che senza la tua presenza nella mia vita non sono nulla. So che eliminerai dal passato tutta la mia storia di povertà. Oggi è il giorno che segna l'inizio della trasformazione della mia vita finanziaria, perché nel tuo santo nome dichiaro che farò tutto il necessario per fare la mia parte per prosperare e arricchirmi, permettendo alla gloria di trionfare nella mia vita per sempre. Credo con fede incrollabile che questa settimana il miracolo della ricchezza divina entrerà nella mia vita, e per questo ti sono eternamente grato. Amen. Che queste parole di fede e di speranza possano toccare i vostri cuori e risvegliare in voi la certezza che la prosperità e l'abbondanza sono alla vostra portata. Ricordate che il potere di trasformare la vostra vita finanziaria è nelle vostre mani, tutto ciò che dovete fare è fidarvi di Dio e agire con coerenza verso i vostri sogni. Che ognuno di voi possa percorrere il cammino della ricchezza, onorando Dio in tutti gli ambiti della propria vita e vivendo al massimo. Credete in voi stessi, mantenete una fede incrollabile e sappiate che la protezione è una realtà che può essere raggiunta. Che la grazia divina sia con voi oggi e sempre. Ricordate, l'abbondanza è alla vostra portata. Siete degni di una vita prospera e felice. Che questo viaggio sia segnato dalla gratitudine, dalla generosità e dall'amore per gli altri. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno e per essere parte di questa comunità in cerca di protezione. Continuate a credere in voi stessi e nelle meraviglie che Dio può operare nelle vostre vite. Che ogni giorno sia un'opportunità di crescita, trasformazione e conquista. Condividete, iscrivetevi e diffondete questo messaggio di fede e felicità. Insieme, possiamo prosperare e avere un impatto sul mondo che ci circonda. Che la pace e le benedizioni divine siano sempre con voi. Gratitudine e successo a tutti!